Fabio Travaglini, uno dei temi scottanti della politica sansalvese è senza ombra di dubbio lo stadio Vitotomeo. Il 24 luglio è stato pubblicato un bando per la gestione dell'impianto, poi revocato a settembre. Cosa è accaduto? Facciamo chiarezza sullo sport a sansalvo. Abbiamo una situazione drammatica in cui lo stadio di questa città è chiuso da mesi, nonostante gli annunci roboanti di riapertura e di fondi, non sappiamo come andrà a finire, ci torneremo, e poi la vicenda del Vitotomeo. Abbiamo aspettato a dare dichiarazione alla stampa, nonostante gli interventi di richiesta e anche di segnalazione all'opposizione, perché ho aspettato di ricevere l'accesso agli atti che abbiamo fatto. È stata fatta una gara di affidamento ad una società sportiva, perché la precedente società sportiva, lo Sporting Sansalvo, ha finito l'incarico, è finito il periodo e quindi la gara è stata ribandita. Vi faccio presente che, per farlo capire ai cittadini, lo stadio, il campo sportivo Vitotomeo, viene affidato e a fronte di questo viene anche dato una somma di denaro al gestore per migliorare quella struttura sportiva. Da quello che abbiamo appreso dagli atti hanno partecipato due società, ma inspiegabilmente nella determina di annullamento la gara viene ritirata, cioè non si procederà all'affidamento di quel campo, per una serie di errori certificati nella determina e soprattutto perché, secondo il funzionario comunale, le due società non hanno i requisiti. Cioè, quella determina ci dice che delle società che noi conosciamo, che sappiamo che riescono a portare anche in eccellenza il sansalvo, secondo quella determina non sarebbero in grado di gestire quella struttura. I nostri sportivi non hanno una struttura in cui allenarsi, che non stanno ripartendo le scuole calcio, che c'è confusione e che è una città di 20.000 abitanti che deve far crescere i propri talenti sportivi, che deve portare in alto i colori delle proprie squadre, deve essere succube di una politica che non riesce a programmare e che ci lascia come l'ultimo dei paesini sperduti, senza strutture all'avanguardia che invece meriteremmo. Questo è il punto su cui torneremo in Consiglio Comunale, nelle carte ed in tutte le sedi competenti.